Quante volte nella storia Pinocchio è stato visto su schermo? Se si vanno a contare serie televisive, sceneggiati, film... Ne abbiamo contati circa 40. Sono qui ad elencarvi quelle che sono state le produzioni più significative. Partiamo dal primissimo debutto di Pinocchio al cinema. Era il 1911, quando il regista italiano Giulian Tamoro dirige il film muto Pinocchio. Particolarità? L'attore che interpretava Pinocchio era un attore adulto. Passiamo poi al film che ha permesso a Pinocchio di essere conosciuto in tutto il mondo e questo lo dobbiamo a Walt Disney, che nel 1940 ci regala un lungometraggio d'animazione ricco di magia, meraviglia e musiche meravigliose. Ma torniamo in Italia. Era il 1972 quando la Rai trasmette per la prima volta Le avventure di Pinocchio. Qui troviamo Nino Manfredi in stato di grazia nel ruolo di ceppetto e una meravigliosa gina loro brigida a interpretare la fata turchina. Come non ricordare il duo comico simbolo di quell'epoca, Franco e Ciccio, che qui vestivano i panni del gatto e la volpe. Praticamente il cast è perfetto.